Tangenziale Nord, una vicenda che stiamo monitorando ormai da tempo. L'opera, attesa 30 anni, sembrava di prossima consegna, ma invece a marzo il cantiere è stato fermato nuovamente a causa del mancato rinnovo della convenzione fra Regione e il Comune di Campobasso. La prevista apertura per l'inizio estate 2023 dunque sembra impossibile. La tangenziale è già pronta in diversi punti come lo svincolo Calvario 1 e 2, quasi completato il viadotto 2, così come il viadotto San Pietro. Sembrerebbe che a breve ripartiranno i lavori e entro poche settimane, massimo un mese, il cantiere riaprirà. Nell'attesa del completamento però resta vivo il problema dei residenti della contrada di Colleleone, che proprio per via dei lavori si sono visti bloccare la principale via d'ingresso. Il sindaco ha fatto sapere che nei prossimi giorni dovrebbero partire i lavori per l'apertura di una strada alternativa, provvisoria, capace di tamponare il problema. I residenti vivono in una condizione di profondo disagio, effettivamente davvero bloccati nella loro contrada, quasi impossibile per ambulanze o mezzi speciali raggiungerli. Per quanto concerne i tempi di consegna della tangenziale Nord, meglio non sbilanciarsi. Nel momento in cui il cantiere riaprirà si potrà fare una previsione più realistica, quasi superato l'ultimo ostacolo. Il taguardo atteso 30 anni sembra più vicino.